Io non lo chiamo flashino, questo lo chiamo luccichino, ma solo perché utilizzo come materiale principale dell'angelina e non solamente flash. È un'esca che viene usata prettamente in lago. Allora, amo del 10 e del 12. Andiamo a bloccare la pallina. Io per questa mosca uso delle brush, non del tungsteno. Una brush da 2.8 su una model 10, 2.5, 2.3 sulla model 12. Ok, a questo punto vado a prendere dell'angelina silver. E la vado a fissare nella parte inferiore del lama. La ribalto e la blocco. La porto su. Poi vado a prendere dell'angelina. In questo caso verde sfumata con delle UV e la monto sopra. A questo punto mi vado a regolare sfibrando l'angelina. Poi prendo un flash argento. Anzi, due flash. Prendo l'altro. Ok. Vedete? Solo due di numero. Li posiziono leggermente più lunghi della gelina. blocco e ribalto. E vado a concludere. In questo caso potete usare dell'ice dubbing, potete usare qualsiasi cosa. Io in questo caso utilizzo un brush nero per chiudere la mosca. È un brush di angelina questo. Solo per comodità. Lo potete fare tranquillamente con dell'ice dubbing. E questo è il luccichino che utilizzo io. Poi può essere fatto con varie sfumature di colori. Può essere fatto anche tutto oro, tutto argento. Pallina argento, pallina gialla. Un goccio di colla anche qua. Anche il luccichino è finito. Questo adesso lo vedete così, ma da bagnato in acqua sembra veramente un pesciolino. Pallina gialla.